Altri libri da leggere a Natale. Qualche giorno fa ho fatto un video su quali libri leggere o regalare a Natale e ho ricevuto qualche critica, nel senso qualche cicchetto, perché giustamente mi hanno fatto notare che ho saltato o non ho menzionato alcuni libri che assolutamente meritavano di essere menzionati. Quindi oggi faccio un bel aggiungo a quei libri lì e ne presento degli altri. Allora, libro numero uno assolutamente da regalare, questo mi era sfuggito, effettivamente colpa mia, colpa mia, questo era da mettere nell'altra lista, è Coltiva la crescita di Mirko Bosi. Mirko è veramente un fuoriclasse nel suo campo ed è esperto di soft skills, di competenze trasversali. Questo libro non è stato pubblicizzato praticamente per niente, non ha al momento un grosso editore alle spalle, non ha ricevuto quella spinta di marketing che fanno gli autori per finire come libri best seller, eccetera, ma se andate a dare un'occhiata alla recensione che ha su Amazon, vi renderete conto che questo libro è veramente una bomba, ci sono tantissime informazioni, nuovi punti di vista, cose che al momento in Italia nessuno tratta e sono informazioni molto molto interessanti. A marzo più o meno uscirà anche in libreria, però potete intanto ordinarlo su Amazon ed è sicuramente una lettura consigliata ed è un regalo a mio avviso eccezionale, per cui Coltiva la crescita di Mirko Bosi. Secondo libro che consiglio è Alza il volume, Parla John di Francesco Patrick Luzzi. Allora, questo libro in parte mi tocca particolarmente perché Francesco ha iniziato a scrivere delle pillole, per le mie pillole, quindi qualche mail, ho chiesto ai miei iscritti di aiutarmi nel creare contenuti per i miei iscritti, lui si è proposto e ha iniziato a mandarmi qualche contenuto e alla fine questi contenuti li ha raccolte all'interno del suo libro, ha aggiunto ovviamente altre cose e ha pubblicato il suo libro. Anche questo è un libro che tutto sommato spacca, non è un libro tecnico, è un libro scritto in maniera molto semplice ed ha tanti punti di riflessione su come vivere la vita, quindi assolutamente consigliato. Anche qui vi consiglio di andare su Amazon, cercare Alza il volume, Parla John e di guardare qualche recensione perché ne troverete veramente di belle. Poi ci spostiamo invece sui classici, su quei libri che avrei potuto inserire nella lista dell'altra volta, però non ho messo, ma giustamente dovevo fare una scelta e quindi alcuni li ho esclusi, oggi invece aggiungo altri. Padre ricco, padre povero, questo è un libro che per i neofiti, quindi persone che si stanno avvicinando al mondo in generale dell'imprenditoria o chi vuole fare il libro professionista e ancora non ha capito bene come muoversi, è un libro che serve non tanto per le nozioni tecniche che ci sono, perché non ci ne sono, ma solo per la parte di mindset, quindi su come iniziare a ragionare in un certo modo e non continuare a pensare da, non vorrei dire da dipendente, però di fatto è questo, inizierai, grazie a questo libro, a ragionare un pochino più da imprenditore e da investitore rispetto che da dipendente ed è sicuramente uno switch mentale che prima o poi va fatto senza intenzione di lavorare in proprio. Poi ho preso L'arte della vittoria di Phil Knight, questo libro ne ho parlato benissimo più e più volte ed è la storia del fondatore della Nike, appunto di Phil Knight. Questo libro è spaziale, è stupendo, è raccontato come un romanzo ed è la storia della vita di Phil, di come lui ha iniziato a lavorare, a creare anzi la Nike, piano piano come si è evoluta ed è bellissimo perché sembra veramente un romanzo proprio descritto in maniera bene quando è andato nel dopoguerra in Giappone, quando pensava di essere veramente pugnalato alle spalle perché c'era stato per l'arbor, quindi diciamo che i giapponesi erano visti male, gli americani figurati, è andato in questa città distrutta, è veramente bello. E poi ci si rende conto di come anche a certi livelli alcuni imprenditori mantengono comunque i propri valori e i propri principi e non li gettino via solo per il vile denaro. Quindi mi è piaciuto davvero tanto questo libro, consigliatissimo, è un'ottima lettura e a mio avviso anche veramente un ottimo regalo. Poi voglio consigliare Smoldata di Martin Lindstrom, questo libro veramente particolare, io non sono ancora riuscito a finirlo perché è un libro abbastanza impegnativo ma è stupendo. Martin Lindstrom è un antropologo praticamente che è specializzato anche in marketing e in psicologia e in questo libro lui si trasferisce a casa delle persone, chiede il permesso di poter aprire tutti i cassetti, praticamente scoprire tutti i loro segreti e racconta un po' quello che scopre e ci si rende conto come culture differenti abbiano ambizioni, sogni differenti, abitudini e modi di vedere il mondo differenti e a mio avviso è veramente bello e apre tantissimo la mente. Quindi è un libro assolutamente consigliato. Non è semplicissimo da leggere, nel senso che non è uno di quei formati proprio terra a terra, ma è un libro a mio avviso molto pieno di contenuti quindi è abbastanza, non voglio dire difficile da digerire, però è leggermente impegnativo. non è uno di quelli che in una notte si legge, però è un libro che a mio avviso merita assolutamente la lettura. Infine per ultimo ho preso il capolavoro Autostrada per la ricchezza. Questo effettivamente avrei dovuto metterlo nella prima lista, mi era sfuggito e no, questo è un libro che chiunque non lo abbia letto deve leggerlo, assolutamente, non c'è via di scampo, nel senso che qui ci sono una serie di informazioni assolutamente essenziali per comprendere il mondo come funziona oggi, dal capire perché una superstar, magari uno sportivo guadagna milioni e un professore universitario guadagna poco, a capire come stai vivendo la tua vita, ne ho parlato nella pillola di ieri quando parlavo di Unscripted, quindi come le persone comuni, è brutto da dire così, le persone che hanno un lavoro dipendente, diciamo che così è più corretto, vivono lavorando cinque giorni a settimana per averne due libri il weekend, ed è uno stile di vita che a me non mi è mai appartenuto e assolutamente condivido la sua visione, quindi per chiunque abbia una visione un pochino più ampia e non sia contenta di lavorare, di, come dice lui, scambiare cinque giorni alla settimana per averne due libri, più qualche vacanza durante l'anno, se si riescono a mettere da parte i soldi, è un libro assolutamente consigliato perché apre tantissimo la mente. Prossimamente recensirò poi anche Unscripted, l'altro suo libro, se riesco a finirlo, perché è molto simile a questo e questo mi aveva veramente lasciato con un wow stupendo. L'altro mi sembra lo stesso libro però, diciamo, un pochino espanso, però non ho trovato tante informazioni concrete, qualcosa che dici, ah wow, questo di là non l'aveva detto, però ho letto solo 120 pagine, un mattone da 600, quindi ancora sono indietro. Con questo è tutto, spero di aver soddisfatto anche a chi mi ha detto che avrei dovuto recensire altri libri che non avevo fatto e ammetto che avete ragione, ne avrei dovuto mettere di più. Volevo stare un pochino breve e poi l'ho presi in velocità, in fretta e furia, perché ero in ritardo a registrare la pillola, quindi ho preso i primi che mi sono capitati sotto mano che meritavano e appena ne ho trovati 7-8, le altre non le ho nemmeno presi in considerazione, gravissimo errore, non lo rifarò più, o almeno ci proverò. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, voglio ricordare a chi non lo sa che potete iscrivervi alle mie pillole di business via mail, quindi andate sul sito pilloledibusiness.com, vi iscrivete, è gratuito, tutte le mattine alle 7 riceverete una mail riguardante marketing, business e in alcuni casi crescita personale, ci si cancella con un click, comodissimo e vi permettere di avere tutte le mattine uno spunto di riflessione, un seme che, l'idea è quella perlomeno, un seme che vi entra in testa la mattina e abbia tempo di germogliare fino alla sera. Magari troverete qualche consiglio utile da applicare sia alla vostra vita che al vostro business, a quel punto io sarò l'uomo più felice del mondo. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!